Ciao ragazze, bentornati sul canale Allora, questo sarà un video breve per appunto dirvi che ho iniziato una collaborazione con il sito Bon Pretty Store Non so se lo conoscete, insomma io già ne avevo sentito parlare ma non ho mai acquistato nulla da quel sito Allora, è un sito asiatico che vende un po' di tutto, dai vestiti agli accessori accessori per capelli borse, anche del make up e quindi mi hanno contattato insomma mi hanno dato un codice sconto per voi del 10% e il codice sconto è GUAT10, comunque ve lo scrivo anche o da qualche parte o nell'info box, sicuramente e niente, insomma più avanti mi dovrebbero inviare qualcosa e niente, quindi insomma io consiglio di andare a darci un'occhiata ecco perché comunque ha cose carine a pochissimo prezzo cioè a prezzo veramente basso in più appunto potete utilizzare anche questo buono sconto del 10% nella sezione gioielleria e gli accessori per capelli e quindi niente se avete già acquistato dal sito magari mi potete far sapere come sono le spedizioni perché essendo un sito asiatico credo che comunque un mesetto ci voglia ad arrivare quindi insomma se l'avete già provato come sito lasciatemi scritto nei commenti e niente ragazzi vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao